Quelli sono quelli che abbiamo avuto noi che le abbiamo messo lì Ma scusami, facciamo certo Quella là è brutta perché è la nostra volta che le abbiamo messo lì No, 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 no Non c'è dei primi? Ok, ok E tre Oh, di plastica è più resistente Di legno No, forse si è di stare attento Quella è pesante Chiediamo un dondo, l'ho vinto No, ma non è colpa mia Poverino, si stava rilassando un secondo E la si è ammolata E si stava ciocciando No, quando l'ho messa, lei mi fa Guarda che dondo, l'ho appoggiata E la mi sono mossa E cos'è dichiarare? Qualcosa? Qualcosa?